Eccomi qua, sono venuto al McDonald's perché voglio fare un altro dei miei pazzi esperimenti. Riuscirò a mangiare gratis? Lo vedremo insieme. McDonald's può diventare la nuova chiesa americana. Nutre il corpo, nutre l'anima e non è aperto solo la domenica, amici. Ciao a tutti, sono Daniele e bentornati su Subri Channel. Riuscirò a mangiare gratis al McDonald's senza ovviamente rubare il cibo che andrò a mangiare. Prima di sapere come è andata ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Lo sapete che ormai cerco di fare sempre gli esperimenti più pazzi che mi vengono in mente sempre in linea con il mio canale, quindi comprano, vendendo e risparmiando. Beh, in questo caso ci sono tutti e tre. Comprano perché ho comprato del cibo al McDonald's, risparmiando perché era l'obiettivo dell'esperimento quindi risparmiare tutto quello che avrei speso comprando del cibo al McDonald's e vendendo perché ovviamente l'obiettivo era quello di vendere i gadget che avrei trovato all'interno dell'Happy Meal per i 25 anni dall'uscita dei Pokémon. Il McDonald's ha tirato fuori le carte dei Pokémon che sono dei gadget all'interno dell'Happy Meal e non vuoi cogliere l'occasione di provare a venderle online ma partiamo dal principio. Il 18 settembre mi arriva un messaggio su WhatsApp da parte di un mio amico con un chiaro messaggio Ehi, sono tornate le carte dei Pokémon al McDonald's, andiamo a fare una cena a base di hamburger e carte dei Pokémon? Io ero già a conoscenza di questa promozione ma purtroppo la prima volta che ne ho sentito parlare non ho potuto approfittare di mangiare qualche Happy Meal trovando le carte all'interno perché ero in giro per l'Italia e facevo la sfida di mangiare un mese intero solo con Too Good To Go. Se ve la siete persi ve la lascio qua sopra nelle schede e qua sotto in descrizione. Quindi abbiamo deciso di andare subito quel sabato sera per non lasciarci sfuggire anche quest'occasione. Lui a dir la verità era stato molto previdente, a casa ne aveva ben 11 pacchetti sigillati ma la mia sfida è stata riuscirò a prendere degli Happy Meal vendendo poi le carte che troverò all'interno e ovviamente riuscire a vendere le carte a più di 4,40€ a costo dell'Happy Meal? Beh vi dirò che quella sera abbiamo fatto abbastanza strage di Happy Meal perché tra me e lui avevamo un tavolo pieno di Happy Meal. Oltretutto c'è stata una scena che mi ha fatto veramente scassare dalle risate ci siamo messi a mangiare i nostri Happy Meal di fianco a un tavolo imbandito di Happy Meal per un compleanno. Beh questi bambini scorrazzavano di qua e di là ad un certo punto una bambina si ferma accanto al nostro tavolo, sgrana gli occhi, corre dalla mamma e sussurra all'orecchio penso una cosa del tipo mamma ma guarda quei due ragazzi quanti Happy Meal hanno preso e la mamma risponde immagino una cosa tipo mi raccomando da grande non diventare come loro. Comunque alla fine ho preso 3 Happy Meal dal valore quindi totale di 13,20€. Quindi il mio obiettivo finale era proprio quello di riuscire a vendere questi tre pacchetti di carte trovati dentro all'Happy Meal ad una cifra maggiore di 13,20€ e quindi ho fatto un annuncio su Facebook dei pacchetti separati a 6€ l'uno. Gli annunci sono stati messi il 20 settembre ad ora di pranzo e pensate un po' alle 14.13 ricevevo già il primo contatto da un ragazzo di Genova. Mi sono messo subito d'accordo quindi per un'eventuale spedizione perché nel frattempo lui si era accorto che io non avevo solo il pacchetto per cui mi aveva contattato ma avevo anche gli altri due e mi ha proposto 15€ per tutti e tre comprese le spese di spedizione ma io ho rilanciato a 17€ per tutti e tre comprese le spese di spedizione proprio perché il mio obiettivo era quello di mangiare gratis al McDonald's. Alla fine ha accettato e pagato 17€ comprensivi di spese di spedizione. Quindi sono riuscito a vendere a 15€ le carte dei Pokémon meno il costo degli Happy Meal in tutto ho ancora guadagnato 1,80€ beh li vogliamo considerare per la benzina ma non finisce qua perché sono ritornato il giorno dopo a prendere altri 3 Happy Meal quindi altri 3 pacchetti di carte Pokémon di tutto perché questo ragazzo era volenteroso di comprarmi carte Pokémon e ho proposto guarda ne dovrei avere altre 3 altri 15€ ti vanno bene facciamo spedizione unica lui mi ha detto di sì e quindi sono corso al McDonald's per un totale di incasso di 30€ con un guadagno di 3,60€ però giuro il mio esperimento finisce qua non gliene ho vendute delle altre ma la mia testa macina nuovi esperimenti quindi ne vedremo delle belle. Ehi il video non è finito qua qui la ti troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da YouTube mentre qui al centro il tasto per l'iscrizione non dimenticatevi che in descrizione troverete tutti i link ai miei social network il prossimo appuntamento mercoledì alle 14